Il giorno e la storia. Oggi è il 27 novembre. 1962. La Camera approva la legge sull'energia elettrica. 1967. Università di Torino. Inizia l'occupazione delle facoltà umanistiche. 1978. Muore Harvey Milk. Commenta il fatto del giorno Maurizio Molinari, direttore della Repubblica. Oggi ho scelto di parlare del giorno nel quale nacque la convinzione di Schengen anche con la visione dell'Italia.